Ah ah prova, ah vedi, autosabotaggio e girare tutta la prima parte del video senza audio e non è la prima volta che mi capita eh, cioè diciamo la prima volta può capitare, no è la quarta, la quinta volta, quindi non imparo dai miei errori, male, non sono adatto all'evoluzione dell'essere umano, non sono molto performante in effetti, in termini evolutivi Ciao sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta poco evolutivo, lavoro da 14 anni nel mio studio analitico e da 13 anni a questa parte ho deciso di portare la mia esperienza qui su internet, su youtube e su instagram perché credo fortemente in ciò che diceva James Simon, ovvero che la psicologia deve e può uscire fuori dalla stanza d'analisi deve e può arrivare a tutti. Oggi parliamo di autosabotaggio e in particolare di 7 comportamenti autosabotanti che cos'è l'autosabotaggio? Ne ho parlato altre volte, ho parlato del mito dell'autosabotaggio dei diversi tipi di autosabotaggio, se youtubate trovate una mia grande performance teatrale sono orgoglioso di quel video e di come ho interpretato tutti i personaggi del mito dell'autosabotaggio ed è quella dinamica psicologica che ci impedisce di raggiungere i nostri obiettivi di compiere il nostro daimon, di fare ciò che vogliamo e a quel punto dobbiamo chiederci se l'autosabotaggio effettivamente è un modo per dire no io non lo voglio inconsciamente, quindi è un conflitto tra conscio e inconscio oppure dentro di me c'è questa parte autosabotante che mi impedisce di realizzarmi in entrambi i casi dobbiamo sempre dialogare con la parte autosabotante per vedere cosa vuole perché c'è, qual è la sua finalità vediamo quali sono i 7 comportamenti autosabotanti cercare alibi, scuse, giustificazioni, non ci sono riuscito perché quando ci giustifichiamo in continuazione ci stiamo autosabotando quando abbiamo un alibi per non aver fatto qualcosa ci stiamo autosabotando quando cerchiamo delle scuse per non fare qualcosa ci stiamo autosabotando è come se mi servisse una causa esterna per non raggiungere ciò che io voglio o non voglio questa è la domanda principale, lo voglio veramente oppure no? a cosa mi serve prendere quella scusa? a cosa mi serve autosabotarmi in quel momento? dare una colpa, dare una colpa a qualcun altro per un proprio fallimento, per una propria sofferenza è la più grande forma di autosabotaggio affidare la responsabilità della propria vita ad un'altra persona affidare l'eventuale fallimento della propria vita o di un aspetto della propria vita a un'altra persona perché in questo modo io divento attore passivo della mia vita divento un oggetto e non più un soggetto nel momento in cui io divento oggetto della mia vita sto lì passivo a subire tutto, poverino, quello che mi accade intorno divento vittima della vita e sto mettendo in atto un meccanismo autosabotante così come dare la colpa agli altri e anche dare la colpa a se stessi ci sono questi due estremi di tutti i fallimenti che sono un atto di autosabotaggio dottore eccolo so, è colpa mia, è colpa mia, è colpa mia, è colpa mia, è colpa mia perché anche qui mi metto in una posizione passiva rispetto alla vita è impotente, io non posso fare altro che essere un fallito e mi sto autosabotando il gioco in queste due dinamiche di colpa quando diamo la colpa a qualcuno e quando diamo la colpa a noi stessi è quello di trasformare la colpa in responsabilità noi siamo responsabili di quel qualcosa in questo modo noi ci trasformiamo in soggetti nella vita non più oggetti così da mettere accanto la dinamica dell'autosabotaggio o comunque vederla in modo trasparente procrastinare è un atto autosabotante soprattutto quando la finalità della procrastinazione è proprio l'autosabotare perché, e ho fatto un video sulla procrastinazione non vi lascio il link ma lo potete youtubare se siete interessati all'argomento procrastinazione dicevo soprattutto quando la procrastinazione ha la finalità di fermarmi di far esprimere una parte di me che dice no, io quella cosa non la voglio fare però c'è la mia coscienza che dice no, la devo fare, la devo fare perché è giusto fare, la devo fare, è giusto fare in goccio, dice col cazzo che te la faccio fare e lì parte l'autosabotaggio attraverso la procrastinazione lo faccio dopo, faccio dopo, faccio dopo, faccio dopo magari non lo faccio più curarsi con delle dipendenze attraverso le dipendenze che possono essere dipendenze da sostanze dipendenza dalla relazione perché ogni dipendenza relazionale nasce da un tentativo di cura io mi voglio curare attraverso l'altro curare una parte ferita della propria psiche attraverso qualcosa che, ripeto, sostanza, alcol, droghe relazioni tossiche significa attaccare addosso a quella ferita che mi sta sanguinando la presa di qualcosa di cui poi non posso fare più a meno e quindi non è una cura ma è un autosabotaggio perché io non sfrutto quella ferita per trasformarla in una parte forte di me per sfruttarla nel mondo costruttivo della mia vita ma utilizzo un oggetto esterno per tamponarla e quindi perdo il senso di quella ferita perdo il senso della mia vita perché in ogni ferita c'è una parte di senso della nostra vita c'è un punto di forza che non vede l'ora di emergere perfezionismo ah, quanto amiamo autosabotarci attraverso il perfezionismo io non faccio una cosa che non è perfetta significa che ti stai autosabotando perché quella cosa perfetta non accadrà mai come ho detto già altre volte c'è una differenza tra perfezionare qualcosa che io sto facendo essere perfezionisti ovvero non fare quella cosa finché è perfetta compiacere gli altri un'altra forma di autosabotaggio è quella del compiacimento ovvero io tendo ad agire nella mia vita non per seguire i miei valori non per seguire i miei obiettivi non per fare emergere il mio caldo per essere aderente alla mia identità ma per non disturbare gli altri per compiacere gli altri quando io mi metto in questo mood di compiacimento dell'altro mi trasformo in oggetto non faccio quello che dovrei fare e mi autosaboto questi sono sette comportamenti dell'autosabotaggio ovviamente ci sono altri tipi di comportamenti piccoli o grandi che siano importante scoprire sempre la finalità di quell'autosabotaggio perché io in questo momento della mia vita non riesco a rendermi soggetto nella vita perché mi risulta comodo rimanere oggetto di cosa ho paura o magari semplicemente che tipo di blocco c'è nella mia psiche che non riesco a sta non so fare stappare questa è una citazione anni delle pubblicità anni 2000 penso ma comunque dialogate con la vostra parte autosabotante una cosa carina che potete fare è farvi una foto stampate lo mettete davanti e quello è il vostro essere oggetti il vostro essere autosabotati il vostro essere passivi rispetto alla vita e incominciate un dialogo con quella persona con voi stessi e dici perché? perché mi stai autosabotando? senza farne una colpa con sincero interesse e vedete che cosa vi risponde se ti è piaciuto il video se ti è venuta voglia di autosabotarti perché no a volte anche a me viene voglia c'è una parte dove non voglio andare faccio agire la mia parte autosabotante con piacere immenso con il gioia della vita insomma metti un like iscriviti al canale condividi il video con un autosabotatore e e accendi il campanino delle notifiche per non perdere i prossimi video ciao vado stamattina sto crepato io abbiamo avuto un evento a Chiedi sulle relazioni molto carine in un museo universitario sala strapiena è stato molto stancante perché ho deciso di fare l'evento relazionandomi con le persone quindi non avevo preparato nulla non amo fare dei monologhi li trovo piuttosto secchi asciutti per fare anima per fare psiche amo interagire quindi ovviamente nell'interazione non sei mai quello che non sei mai pronto non sei mai lo che ti aspetta sono uscite belle domande belle dinamiche interessanti stancanti però è bello abbiamo fatto anima grazie a tutti